Molti meno, Presidente. È solo per dire che la volontà della delibera era proprio quello di fare uno studio e di permettere di fare un'analisi a due anni da questo momento. Ora ci sembra strano che, visto che c'era stato segnalato più volte e correttamente abbiamo preso in esame le segnalazioni che ci sono state fatte e dunque l'abbiamo scritto con estrema chiarezza di fare uno studio prima di mettere in atto tutte le azioni della congestion charge, sono giorni che noi stiamo in aula a sentire ma non lo potete fare perché prima bisogna fare questo, prima bisogna fare quello. Ma noi vi diciamo, guardate che noi volevamo fare uno studio prima di applicarla, adesso che lo facciamo c'è qualcuno che ci dice che è sbagliato. L'abbiamo scritto in maniera più chiara, l'abbiamo scritto in maniera inequivocabile, esattamente quello che ci è stato detto qui in questi giorni. Ci sembra strano la contrarietà rispetto a questo, anzi a questo punto dovreste dire, ah, allora avete recepito le nostre segnalazioni. E infatti questo abbiamo fatto, nella discussione che c'è stata abbiamo preso atto che andava rafforzato questo concetto che secondo noi già c'era nella delibera e lo stiamo applicando adesso in maniera inequivocabile. Grazie.